Il Bon Mago Pellegrino Il Bon Mago Operator Academy è un progetto nato qualche tempo fa alla luce delle numerose richieste da parte della clientela in termini di formazione degli operatori e di accrescimento delle loro competenze tecnico-operative sulle macchine. È un dato di fatto che se da una parte le macchine stradali stanno diventando sempre più tecnologiche ed evolute, dall'altra a questa evoluzione deve seguire una proposta formativa che accresca le conoscenze degli operatori al fine di ottenere i migliori risultati di produzione. La Bon Mago Operator Academy si svolge presso la sede del nostro gruppo Bon Mago D'Alfonsine in provincia di Ravenna. La formazione comprende due giornate e mezza di attività in aula e nel campo prove, durante le quali gli operatori potranno avvalersi dell'esperienza del nostro personale qualificato per migliorare gli aspetti sia teorici sia pratici delle fasi di costruzione di una strada. Un valore aggiunto è dato dall'accordo che abbiamo fatto con la Scuola Edile Provinciale di Ravenna, che si occuperà di erogare la formazione sulla sicurezza in cantiere e rilascerà inoltre un regolare testato di partecipazione. Il Bon Mago Operator Academy è un format che contiamo di replicare in futuro, nella stessa modalità attuale, ma anche con formule diverse, che via via dovranno accogliere e rispondere alle necessità formative reali dei nostri clienti. Bon Mago Operator Academy 2023 è sicuramente un corso per noi aziende molto interessante, principalmente per due aspetti, da un punto di vista tecnico operativo e tecnico teorico. Tecnico operativo perché? Perché i nostri operatori qui, grazie al campo prove Bon Mag, hanno la possibilità di provare le macchine, di vederle da vicino e di utilizzare il tempo necessario per apprendere tutte le nozioni. Tecnico teorico perché l'operatore ha la possibilità di vedere tutta la costruzione di un progetto stradale, quindi partendo dalla progettazione, alla produzione di conglomerati bituminoso e poi alla stesa di conglomerati. Così facendo, riusciamo anche a responsabilizzare di più gli operatori in fase di esecuzione, mettendo la conoscenza appunto dalla parte teorica. Per concludere, cosa più importante, sicuramente un corso che ripeteremo cercando di coinvolgere i ragazzi più giovani per dare il giusto ricambio generazionale alle scuole di stesa che purtroppo oggi sono un po' anziane. E' un corso di formazione che mancava, mancava al settore, ci ha permesso di conoscere tutte le macchine e gli strumenti messi a disposizione da Bon Mag. Per darci la possibilità di svolgere un lavoro a regola d'arte, credo personalmente che questo servizio sia un servizio aggiuntivo ad un post vendita già efficiente di Bon Mag. Noi come azienda abbiamo aderito subito, appena abbiamo saputo di questo corso, e che abbiamo l'intenzione di estendere a tutto il nostro personale. Siamo orgogliosi di mettere a disposizione dei nostri clienti tutto il nostro know-how, l'esperienza dei nostri tecnici, così come le strutture. Partendo dall'innovativo Marini Bon Mag Academy, è il nostro training center. Questo corso finalmente offre agli operatori di settore una visione a 360 gradi su tutti gli aspetti di cantiere, in modo che tutti gli attori che vi operano sappiano interpretarli. I temi trattati sono ampi, si inizia dal corso relativo all'ascurezza di cantiere, per poi concentrarsi sugli elementi costitutivi di una pavimentazione stradale, i materiali, le caratteristiche, le prestazioni dei vari materiali. Quindi le tipologie dei vari conglomerati bituminosi, sia caldo che a freddo, stesi con miscele in cui è presente il riciclato e non. Un tema affrontato è anche l'impianto di produzione dell'asfalto, come si produce, infine come si realizza una corretta stesa e compattazione, sia a livello teorico che pratico, andando fisicamente a realizzarle in campo con le stese e le compattazioni attraverso le macchine messe a disposizione. Grazie per la visione!